Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. La relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sembra essere giunta al Capolinea, secondo i rumors che circolano da diverse settimane. Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, fonti vicine alla coppia sostengono che la rottura sia avvenuta circa un mese fa e che i due non si vedano da tempo. La regina del gossip di Yanira Marzano ha confermato la separazione, affermando che Eros e Dalila non sono più insieme e che lui si trova al mare mentre lei è a Milano con gli amici. Dalila Gelsomino, classe 1989, è nata a Milano e si è trasferita negli Stati Uniti dopo aver completato gli studi in economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo. Dal 2016 vive in Messico, dove ha conosciuto Eros Ramazzotti nel 2023 e ha iniziato una relazione con lui. Tuttavia, lo scorso luglio Eros è stato avvistato con Desire Popper, una brasiliana specializzata in reality, alimentando i rumors su una possibile nuova fiamma per il cantante romano. Nonostante le voci sulla fine della relazione tra Eros e Dalila, non ci sono prove certe riguardo alla natura del rapporto tra Eros e Desire. La situazione rimane quindi un'incognita con i fan che attendono ulteriori sviluppi. Per rimanere aggiornati su questa e altre notizie di gossip, non perdete se può muovere qualche, senza un uomo, 26, 20, vince, 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 vince ma dico da da 这